Nel 2020 il mondo è stato investito da uno tsunami che segnerà un'epoca. Anche l'Italia ha pagato un alto tributo quanto ad ammalati e morti. Le nostre vite sono state stravolte, il prezzo pagato dal mondo del lavoro è stato altissimo. Ma c'è anche chi non ha mai smesso di produrre e garantire servizi, come le lavoratrici e i lavoratori di banche, assicurazioni, servizi finanziari. Abbiamo tenute aperte le filiali, sia pure con attività ridotta, assicurando l'erogazione dei prestiti di emergenza per le imprese e il pagamento delle pensioni. Per permettere l'erogazione di questi servizi essenziali, molti lavoratori si sono ammalati. Ma non ci siamo mai fermati, anche quando i dispositivi di sicurezza mancavano e i banchieri e i loro manager fingevano di non capire. Così come non si è mai fermato neanche il sindacato, che si è battuto con forza, siglando accordi e protocolli sulla sicurezza. Il sindacato c'è stato, c'è e ci sarà. Iscriviti alla CGL, scegli la FISAC. Confederale è meglio.